Questa mattina è crollata una parte del soffitto, parte dell'intonico sotto uno dei portici, una parte del portico che c'è vicino al bar Aurora in prossimità di fronte praticamente all'inverso della fine dei portici del corso del popolo e non è la prima volta che si stacca qualche pezzo di calcinaccio ma stavolta effettivamente sono molto più estesi non c'è stato a nostro avviso pericolo per nessuno però è una situazione veramente non bella e sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale ponesse gli strumenti affinché i proprietari delle rispettive porzioni di portici facciano l'amutenzione perché purtroppo è un costo, ce ne dispiace ma non è neanche possibile una cosa del genere tra l'altro i portici sono spesso in condizioni non proprio bellissime grazie